8 e 11 minuti, anzi 12 minuti di venerdì 22 settembre 2023, do il benvenuto in trasmissione al professor Silvio Tafuri, docente di igiene dell'Università di Sud di Bari, buongiorno. Buongiorno. Che piacere averla qui di persona, perché dobbiamo dire che tante volte ci siamo sentiti via, vabbè noi ci siamo visti tante volte di persona, però in studio ci siamo collegati tante volte via Skype, ma causa Covid, sempre eravamo a distanza, oggi finalmente siamo qui in presenza, è un piacere averla in studio con noi. Piacere mio. Anche perché è un piacere soprattutto poter essere in presenza, poter essere qui, perché insomma stiamo parlando di un'epoca praticamente completamente diversa rispetto a quella che purtroppo abbiamo vissuto nella cosiddetta era Covid, che ahimè purtroppo l'abbiamo vissuta con tanti disagi, tanti problemi, questo però non significa, oggi bisogna magari cambiare un po' la prospettiva, cercare un po' di capire come gestire in questo momento anche queste notizie che ci arrivano di questo leggero aumento dei numeri, aumento dei casi, come dobbiamo leggere tutte quante queste notizie, che sta succedendo, qual è la situazione attualmente? Bene, diciamo che si chiama autunno fondamentalmente, l'autunno è da sempre caratterizzato da un incremento della circolazione di quelli che sono i virus respiratori, noi eravamo abituati all'influenza, forse anche troppo abituati perché abbiamo banalizzato il fenomeno, nella realtà il Covid si prende un posto a fianco all'influenza e da un punto di vista mediatico anche prima dell'influenza e ci sono anche altri virus che circolano e che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi circoleranno in maniera ancora più intensa contagiando tante persone, devo dire che il Covid è un po' più rappresentato perché c'è una maggiore possibilità, abitudini a testarsi rispetto a quanto uno non si testi per esempio per influenza. Ecco perché per esempio poi il test che noi abbiamo fatto per il Covid teoricamente ci sarebbero anche per l'influenza, poi in realtà questa cosa non avviene perché non ci andiamo a fare il tampone per vedere se abbiamo il virus influenzale. Assolutamente sì, finora il tampone per influenza era fatto più per modo di ricerca che più per fare diagnosi vera e propria, ma ci sarebbe il virus respiratorio sinciziale, insomma sono dei compagni che da novembre a marzo ci dobbiamo aspettare di incontrare. Ricordo i numeri per intervenire in diretta 080 501 4668 per le vostre telefonate, 080 501 9998 invece per i vostri messaggi whatsapp anche vocali. Allora dicevamo ci proiettiamo dunque verso un autunno, tra l'altro domani lo abbiamo detto prima con il colonnello Vita Antonio Laricchia che domani arriva proprio formalmente anche l'autunno, arriva anche da un punto di vista dei calendari vaccinali la data dell'autunno, questo significa proiettarsi in che direzione? Perché una delle domande che ci stanno facendo spesso e immagino è una domanda che rivolgano anche a lei, è quella quando ci potremo vaccinare, soprattutto come funzionerà, ci sarà il vaccino per l'influenza, ci sarà il vaccino per il covid, ci sarà un'unica cosa, ci sarà una cosa che si farà insieme, insomma come ci si comporterà? Allora la distribuzione dei vaccini anti-influenzali in realtà almeno ai punti di vaccinazione è già iniziata, anche se la somministrazione partirà a partire da metà ottobre, la data dovrebbe essere l'11 ottobre, probabilmente nella settimana prossima dovrebbero arrivare anche i vaccini anti-covid che sono gestiti direttamente dal governo, dalla struttura commissariale ancora e probabilmente si potrà iniziare insieme a metà ottobre perché lo standard quest'anno deve essere la cosomministrazione del vaccino anti-Sars-CoV-2 e anti-influenzale, due buchi nella stessa seduta vaccinale, questo è il metodo con cui dobbiamo approcciare questa stagione vaccinale. Non cominciamo a pensare che sia meglio separarli, non cominciamo a chiedere quanto tempo tra l'uno e l'altro, si va dal medico di medicina generale in farmacia al punto vaccinale ospedaliero e ci si fa fare le due vaccinazioni insieme, non avrebbe senso separarle. Ecco proprio ha detto qualcosa sulle modalità anche perché poi anche su questo ci si pongono tante domande, da un lato vengono gestite proprio a livello ospedaliero, dall'altro chiaramente ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia che immagino riceveranno i vari medici, riceveranno poi le varie dosi e attivo sicuramente un programma anche per la distribuzione, sarà attivato. È in corso di definizione e probabilmente ci sarà anche un coinvolgimento delle farmacie, anche questo è in corso di definizione. E quindi avremo ulteriori notizie. Ci sono delle date comunque, delle date definite che sono state fissate? Allora dovrebbe partire la campagna non prima dell'11 ottobre, anche perché razionalmente non avrebbe senso farla partire prima, di solito metà ottobre è un termine realistico per partire con la vaccinazione e dovremmo cercare di completarla entro la fine del mese di novembre, quello perché poi tenete presente che da metà dicembre la circolazione dei virus respiratori è molto molto intensa, per cui bisogna arrivare a metà dicembre già tutti vaccinati, soprattutto i soggetti che sono a rischio. Soggetti a rischio che cosa significa? Lo abbiamo visto durante il periodo del Covid, che ci sono in particolare, io ho rievocato una scena proprio di qualche giorno fa, perché ho dovuto reindossare la mascherina, immagino che lei sia sicuramente più abituato di quanto non lo sia io a distanza di un po' di tempo, però mi ha fatto un po' di effetto entrare in un reparto per motivi di lavoro, siamo andati al reparto di oncologia al quartiere San Paolo e la prima cosa che ho fatto è stata prendere una mascherina e indossarla, perché vedevo con tante persone che stanno facendo la chemioterapia, tante persone che sicuramente possono avere delle fragilità, insomma in quei casi bisogna prestare una particolare attenzione, questo magari lo diciamo anche le persone che magari stanno raffreddate, hanno una tosse, state attenti soprattutto alle persone più fragili. Allora in Giappone da una vita si sa che se hai il raffreddore ti metti la mascherina quando esci, vai anche a scuola ma ti metti la mascherina, indipendentemente dalla diagnosi legata a tamponi di sorta, questo dovrebbe essere un elemento di civiltà che dovremmo imparare. I soggetti a rischio sono quelli che rischiano la pelle in caso di influenza o in caso di Covid, per cui sono quelli che primitivamente dovranno essere vaccinati, pazienti ultra 60 anni, soggetti comunque oncologici o con patologie neurologiche, respiratorie, donne in gravidanza, è molto importante vaccinare le donne in gravidanza a qualsiasi epoca della gravidanza perché sono più a rischio di farsi delle polmoniti che poi possono portare anche a delle nascite premature. Io te lo diciamo, grande attenzione soprattutto in questi casi perché insomma avere un'attenzione in più, oggi non è che, è vero che quando ci si mette la mascherina oggi ci si sente di nuovo, di uno dice vabbè ma mi sento come un appestato, però avere queste piccole cautele significa proprio proteggere anche queste persone che magari sono un po' più delicate, un po' più a rischio. Una telefonata, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono la signora Maria e vorrei fare una domanda. Prego, 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 buongiorno. Io ho fatto la quinta dose del vaccino, quindi non so se devo fare ancora un'altra, cosa mi consiglia. Signora, dimentichiamoci questi numeri, buongiorno, quarta, quinta, sesta, eccetera, dobbiamo dimenticarceli. Si parla di dose stagionale, il vaccino che lei ha fatto con la quinta dose è completamente differente rispetto a quello che le sarà proposto ad oggi perché il vaccino che sarà in distribuzione la metà ottobre è un vaccino modellato sulle ultime varianti, ben differente dalle prime dosi e anche da quelle aggiornate che lei ha già ricevuto. Però dimentichiamoci nella semantica questi discorsi prima, seconda, terza, quarta, quinta. Io se dovessi parlare della mia influenza dovrei parlare di 22 dosi, ho visto l'altro giorno sul mio cartellino vaccinale. Quindi dimentichiamoci questi numeri, si fa la dose stagionale adattata alla variante circolante. A tal proposito, ci sono delle tempistiche che devono essere rispettate e considerate rispetto alle ultime vaccinazioni? Perché immagino, però magari mi smentisca se sto dicendo una fesseria, che molte persone difficilmente ci si può essere vaccinati durante il periodo estivo, non so, forse c'è qualcuno che si può essere vaccinato e ci sono delle tempistiche nel qual caso che bisogna tenere in considerazione laddove ci sia stata una vaccinazione a stretto giro? Allora, può essere stato vaccinato solamente qualcuno che è partito per paesi laddove ancora richiesta, che ne so, la terza dose di vaccino anti-Sars-CoV-2, uno non l'aveva fatta e quindi l'ha fatta prima di partire, perché ci sono ancora questi nei regolamenti sanitari di alcuni paesi. Comunque parliamo di due vaccini differenti. Come tale non c'è un problema di interferenza tra un vaccino e l'altro. Quindi perché parliamo di due prodotti che da un punto di vista, diciamo, dei ceppi che sono contenuti, o meglio degli antigeni che vengono prodotti, sono completamente differenti. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, è un saluto d'ospite. Buongiorno. Volevo capire, il vaccino anti-sars-CoV-2 cambia ogni anno. Perché questa domanda? Perché sentiamo parlare di vari anni e quindi presumo che ogni anno ci sia un vaccino nuovo, bene in bovino. Anche per quello anti-sars-CoV-2 è la stessa cosa. Altrimenti voi non... Chiarissima. Chiarissimo, chiarissima. Ottima domanda, sicuramente, a cui il professore saprà dare sicuramente risposta. Buongiorno. Allora, sì, il vaccino anti-influenzale contiene gli antigeni di quattro ceppi di virus influenzali, due di tipo A e due di tipo B, e viene modificato almeno parzialmente ogni anno. Non è detto che cambino tutti e quattro, ma due o tre cambiano ogni anno sulla base dei dati di circolazione. Soprattutto noi siamo a nord, da noi l'inverno arriva più tardi, per cui si va a guardare quello che accade nell'emisfero sud del mondo in base a quello che circola lì, si adatta il vaccino. Per quanto riguarda invece il vaccino del Covid, lei l'ha detto giustamente, è un vaccino diverso rispetto a quello che è stato somministrato fino a prima dell'estate, o come diceva giustamente, anche per chi magari si è dovuto vaccinare per dover partire per un viaggio. In che cosa è cambiato? E soprattutto qual è stata la proiezione che è stata fatta? Come è stato modificato il nuovo vaccino? Cioè si è fatto un giudizio su quello che sarebbe stata la modificazione del virus? O ci erano già degli elementi che ci facevano pensare come sarebbe diventato? E quale sarebbe stato il virus che si doveva diffondere? C'è stata la circolazione delle varianti, diciamo del lineaggio BA5 e BA6, che era completamente differente dal CEPOV1, che è quello che invece ha caratterizzato la prima fase della pandemia e anche poi dalla cosiddetta variante inglese e la variante Delta. Quindi conseguentemente si è adattato il vaccino a questo nuovo lineaggio che deriva praticamente dai CEPI BA5 e BA6. In particolar modo vi devo dire che adesso si sta notando un aumento della circolazione dei CEPI cosiddetti XBB1.5 Like, cosiddetti poi Eris e Pirola, rispetto ai quali il nuovo vaccino ha in effetti un effetto protettivo, almeno negli studi in vitro. Una domanda invece più legata a quella che deve essere la nostra percezione, perché anche comunicarlo non è semplice. Noi ce ne stiamo interrogando molto in questi giorni, ne parlavamo prima anche con la collega Paola Laforgia dell'ANSA, che la cosa difficile in questo momento è riuscire a dare un messaggio senza spaventare, perché purtroppo abbiamo ancora nei nostri ricordi quello che è stato il Covid negli scorsi anni. C'è molta paura a parlarne, perché sembra quasi che si voglia terrorizzare la gente e in realtà non è così, si tratta soltanto di programmare proprio in maniera corretta, come forse bisognerebbe sempre fare. So che non è una domanda, è una domanda più da chi fa comunicazione, ma lei in qualche modo so che è molto appassionato anche del tema. Come si fa in questo momento anche a riuscire ad arrivare, lei come medico prima di tutto, come si fa a riuscire ad arrivare a convincere magari una persona sul fatto che sia giusto, sia opportuno, riuscire a fare la vaccinazione e quindi fare la giusta prevenzione in questo momento storico? Beh, innanzitutto, buon esempio. Sarebbe il caso che i medici fossero i primi a vaccinarsi. Io mi vaccinerò nel primo giorno utile. Se voi andate sul mio profilo Facebook o Instagram troverete tranquillamente la mia foto col deltoide scoperto e l'ago infilato all'interno del deltoide. Quindi ritengo che il buon esempio sia sicuramente il primo elemento importante perché tutti siano rassicurati. Se lo faccio sulla mia pelle e vi dico ragionevolmente l'antinfluenzare la fanno anche i miei nipotini. Questo è l'elemento di rassicurazione più importante che vi posso dare. Ok, vaccino me stesso, vaccino la mia famiglia e quindi sono ragionevolmente sicuro da un lato della sicurezza e dall'altro anche dell'efficacia di questo prodotto. L'altro elemento importante è evitare polemiche e fare un ragionamento sempre sereno con le persone che a volte sono semplicemente dubbiose e non sono a priori contro la vaccinazione ma hanno necessità di una parola di rassicurazione basata su... e devono a volte anche fidarsi di chi è esperto questo è importante fidatevi di chi è esperto e non del dottor Google. Anche se poi dobbiamo dire che anche tra i medici è giusto che ci sia uniformità lei ha detto giustamente ci deve essere l'esempio che deve partire da tutti qualche volta almeno in passato mi auguro che adesso si sia capito un po' anche quale deve essere la storia di Google. Buongiorno Buongiorno dottore buongiorno a tutti ben tornati era da tempo che mi aspettavo dottore volevo farle una domanda un virus diciamo ha un un tempo cioè nasce vive e muore prima di tutto questo volevo sapere secondo io sono contraria ai vaccini a questi vaccini non mi sono vaccinata non ho vaccinato mio figlio non ho mai avuto il covid non ho mai avuto niente e vorrei che parlasse del degli effetti collaterali che hanno fatto questi vaccini una volta per tutte diciamo aprire questo discorso che ormai diciamo è realtà Signora lei è fortunata come una persona che è andata in controsenso in autostrada e l'ha potuto raccontare però la inviterei a non invitare gli altri a fare la stessa cosa perché diciamo uno che è andato in controsenso lei invita a farle io invito a non farle no signora però con la differenza che io ho 300 lavori su PubMed sull'argomento e lei probabilmente non sa cosa è PubMed e quindi comunque in ogni caso gli eventi avversi da vaccinazione anti SARS-CoV-2 sono oggetto di monitoraggio attento da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco abbiamo un monitoraggio mai fatto rispetto a nessun altro vaccino non ci sono eventi avversi che comportino un cambiamento del profilo rischio-beneficio della vaccinazione tutte le pubblicazioni dell'AIFA sono presenti sul sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco e sono leggibili sono state anche prodotte delle infografiche che rendono anche particolarmente smart la lettura ecco in questa maniera anche per avere maggiore consapevolezza perché poi io mi rendo conto anche che il sentimento della signora magari condiviso devo dire per certi versi anche da persone che si sono già vaccinate che in questo momento è come se avessero un po' di timore quindi a questo punto magari se volete cercare di approfondire insomma su tutti quanti i portali web autorizzati questo è importante perché poi su internet si può trovare qualsiasi cosa cercate di vedere delle pubblicazioni scientifiche rendetevi conto con i vostri occhi perché poi ci sono dei dati che sono scientificamente confermati poi è giusto che ognuno decida in autonomia di chi fidarsi però questa dovrebbe essere la strada da seguire altra telefonata buongiorno sì buongiorno il mio pensiero è che è giusto voglio dire seguire chi ha studiato e chi come diceva giustamente il dottore prendere informazioni da chi ne sa di più del comune cittadino però oggi ci sono migliaia di medici che la pensano diversamente rispetto al dottore in studio quindi la domanda è perché dobbiamo credere al dottore in studio se migliaia di medici a livello mondiale oggi la pensano diversamente quindi in fin dei conti nel 79 il ministro della salute Anselmi l'ha fatto saltare in area l'auto perché non ha accettato 35 miliardi di vecchie lire perché ritirò decine decine se non centinaia di farmaci inutili quindi voglio dire sappiamo benissimo le case farmaceutiche come lavorano quindi il pensiero è che sì dobbiamo ascoltare le persone esperte però dobbiamo scegliere chi quindi senza criticare chi ha scelto un pensiero diverso dal dottore in studio grazie nella scienza non ci sono elementi di democrazia questo è diciamo sinteticamente il mio pensiero la scienza dice una cosa dice che i vaccini ci hanno aiutato e ci hanno consentito di uscire dall'emergenza in questo momento dei medici chi la pensa diversamente semplicemente fuori dalla comunità medica la comunità medica non può accettare in questo momento atteggiamenti antiscientifici è come se uno le dicesse con un infarto non faccio l'angioplastica perché la penso diversamente quello crepa perché è infartuato non possiamo consentire al medico di far crepare una persona perché è contraria alle angioplastiche così come non possiamo consentirci di esporre la popolazione a rischio a eventi respiratori da covid perché c'è qualcuno che la pensa diversamente la scienza non è libertà di pensiero è accettazione della realtà dei dati che sono assunti con metodo scientifico dopodichè professore possiamo dire che a questo giro almeno anzi in realtà lo era già prima anche se poi c'erano tutta una serie di limitazioni però comunque quella della vaccinazione resta una facoltà noi ovviamente vi invitiamo soprattutto a una maggiore attenzione e a una maggior ragione per quei soggetti che insomma potrebbero avere avere altri rischi ricordiamoci però facoltà ma non si è liberi di uccidere se non si è vaccinati si prega di astenersi da contatti con persone a rischio perché libertà sì ma non liberi di uccidere qualcuno se c'è un paziente con la sclerosi multipla a casa non sono libero di non vaccinarmi perché la mia libertà va a cozzare contro la sicurezza di quella persona molto brevemente l'ultima cosa legata soprattutto a quelle che sono le decisioni di questi giorni perché poi si torna a parlare anche di tamponi di quelle che devono essere le regole anche che verranno attuate soprattutto in quelle strutture per esempio strutture sanitarie dove magari ci può essere più rischio nei pronto soccorso dove è arrivata una prima circolare a giorni arriveranno anche altri aggiornamenti che immagino siano comunque concordati poi con il ministero anche lì che tipo di decisioni ci dobbiamo attendere soprattutto che tipo di attenzioni si dovranno avere all'interno delle strutture sanitarie bene in realtà non è cambiato molto rispetto al passato quando si accede in pronto soccorso si fa il tampone se si ha sintomatologia respiratoria che ci fa pensare al covid o all'influenza si fa il tampone a tutti i pazienti che devono andare al ricovero questo sicuramente ma vi devo dire che in moltissimi ospedali queste attività erano rimaste indipendentemente dalle indicazioni ministeriali noi per esempio al Policlinico avevamo continuato comunque a sottopare al tampone tutti i pazienti che andavano al ricovero in tutto il periodo anche post pandemico e con questo diciamo che per ora per ora è tutto io ringrazio il professor Silvio Tafuri docente di igiene dell'università degli studi di Bari la raccomandazione soprattutto per tutti cercate di farvi un'idea attraverso se diciamo non vi fidate di quello che abbiamo detto qui in trasmissione cercate di farvi un'idea secondo quelle che sono le fondi scientificamente verificate perché purtroppo su internet poi se ne dicono di tutti i colori ahimè non ci si deve far condizionare da queste cose anche perché quello che abbiamo vissuto in questi in questi ultimi anni purtroppo è molto significativo e chi come il professore poi ha vissuto direttamente ha visto all'interno delle strutture che cosa stava accadendo può sicuramente testimoniare oltre al fatto a quello che diceva giustamente su quanto si è studiato però poi quello che succedeva negli ospedali lei l'ha visto tantissimo noi ci siamo affacciati e ahimè abbiamo visto anche noi con i nostri occhi che cosa è avvenuto e quindi cercate di pensare soprattutto a quello assolutamente sì gli ospedali offrono timore ancora di covid mettetevelo in mente grazie professor Silvio Tafuri per essere stato qui con noi un po' di musica e poi torniamo in diretta grazie a tutti